Little Tony avrebbe compiuto quest'anno 80 anni ed il prossimo 27 maggio ricorrerà all'anniversario della sua scomparsa. Per l'occasione la Little Tony Family ha organizzato un concerto in streaming. Com'è nata questa idea? L'idea nasce perché siamo praticamente la Little Tony Family, quindi la famiglia di Tony, i storici rappresentanti appunto della musica di Tony. Ci sarà questo concerto meraviglioso perché quest'anno Tony avrebbe compiuto 80 anni, quindi lo ricordiamo con diversi eventi, tra cui appunto quello del 27 con questo grande concerto. Com'è articolato questo concerto? Allora ci sono due ballerine, quattro musicisti, io e Angelo, tutti i grandi successi di papà, due duetti che facciamo insieme, papà canterà con noi le sue canzoni. Il nostro concerto si può vedere andando sulla nostra pagina Facebook, cliccando acquista il biglietto e sarà trasmesso sulla piattaforma streaming. Immagino voi speriate, faccia come dire, da apripista una serie di eventi. Eh sì, speriamo che questo sia il primo per una lunga estate piena di concerti, intanto vi aspettiamo il 27 in streaming, ma comunque sarà come essere dal vivo. Grazie a tutti.